Il caldo tanto atteso è arrivato oggi in molte città italiane e nelle prossime ore è previsto il bollino arancione con temperature che toccheranno i 40 gradi. Bolzano, Campobasso, Perugia e i primi comuni che dovranno mettere in atto le misure di prevenzione soprattutto per le fasce più fragili tra cui gli anziani. Da giovedì il caldo si estenderà su tutta la penisola, l'anticiclone africano chiamato Scipione farà sfiorare i 42 gradi, porterà tanta umidità. Il Ministero della Salute attiverà un monitoraggio costante su 27 città italiane.